Si chiamano Maria Rus e Delia Zarnisku, le due donne, la prima di 54 anni e la seconda di 58, trovate morte, con ogni probabilità ammazzate nel centro storico di Naro. I loro cadaveri sono stati scoperti poco prima dell'alba, in due diverse abitazioni. Quello di Maria, conosciuta come Matica, in vicolo Avenia, quasi completamente carbonizzato. Quello di Delia, in via Vinci, trovato in una pozza di sangue con segni di colluttazione. Le due donne, entrambe di origini romene, pare fossero amiche, come è normale che sia tra membri della stessa comunità. E le due case distano una dall'altra poche centinaia di metri. Gli investigatori stanno cercando di capire se c'è e quale sia il collegamento tra i due episodi. Una delle due vittime era stata sposata con un uomo italiano, morto qualche tempo fa. Il corpo di Matica è stato trovato carbonizzato dentro la sua casa, gravemente danneggiata dalle fiamme. Un incendio, la cui cause sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di capire se Matica sia rimasta vittima di un rogo accidentale o se qualcuno lo abbia piccato per cancellare le tracce. Il cadavere di Delia, invece, è stato trovato in un lago di sangue, con chiari segni di colluttazione, come se la donna, prima di soccombere, abbia cercato di difendersi. In questo caso, i dubbi che si tratti di un omicidio sono pochi. Su posto sono intervenuti i vigi e fuoco, i carabinieri della Compagnia di Naro e del Comando Provinciale di Agrigento, il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il sostituto procuratore Lettraconsoli, che stanno coordinando le indagini. Nella caserma dei carabinieri a Naro sono in corso interrogatori di persone ritenute sospette per la morte delle due donne. Al momento, come si apprende, non sarebbero state messi fermi dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, che coordina l'indagine. Ho appreso la notizia stamani dalla stampa, aspetto di avere maggiori informazioni per capire meglio cosa sia accaduto, ma l'intera comunità è sconvolta da una simile violenza. A dirlo è Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro. Non conoscevo personalmente le due vittime, aggiunge il primo cittadino, ma la loro morte resta un trauma per la nostra piccola comunità. Come sindaco non posso che provare un grande dolore.